Abbiamo dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica che sa discutere con franchezza senza usare moduli preconfezionati e capace di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa. È un lungo elenco di meriti quello che Papa Francesco riconosce ai padri sinodali impegnati per tre settimane in un serrato e complesso confronto sulla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa di oggi. Il Papa ha preso la parola nel pomeriggio di sabato 24 ottobre al termine dell'ultima riunione sinodale. Ricordando gli insegnamenti dei suoi immediati predecessori, Francesco ha ribadito che compito della Chiesa è di aiutare le famiglie povere e quelle ferite, illuminandone le coscienze, e di incoraggiare quelle sane, ideando una nuova pastorale familiare. Nessuna famiglia, a concluso, deve sentirsi sola o esclusa dall'amore o dall'abbraccio della Chiesa. Il vero scandalo è la paura di amare e di manifestare concretamente questo amore. L'esperienza del sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito, non le idee ma l'uomo, non le formule ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. Ciò non significa in alcun modo diminuire l'importanza delle formule. Sono necessarie l'importanza delle leggi e dei comandamenti divini, ma esaltare la grandezza del vero Dio che non ci tratta secondo i nostri meriti e nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo la generosità illimitata della sua misericordia.